Così imprenditori e indranghietisti erano al servizio di Matteo Messina Denaro, di Stefano Baudino per l'indipendente.online. Interrogato davanti ai magistrati un mese dopo l'arresto, lo scorso 16 febbraio, Matteo Messina Denaro ha fatto l'ognorri. Ha sostenuto di non aver mai fatto parte di Cosa Nostra, di saperne qualcosa solo perché è letto sui giornali, e di non aver mai avuto alcuno dei soprannomi che hanno accompagnato il suo personaggio, che gli sarebbero invece stati attaccati dai giornalisti quando era latitante. Una narrazione in perfetto stile mafioso, che pare un copia e incolla delle dichiarazioni del suo mentore, cioè Totorina, davanti ai giudici negli anni 90. Eppure, nell'occasione, qualche dettaglio sulle sue strategie finanziarie Messina Denaro se lo fa scappare. E, in contemporanea, le indagini continuano, svelando elementi importanti sulle protezioni di cui Usyku, come era soprannominato, avrebbe goduto prima della cattura. Mi chiamo Matteo Messina Denaro, lavoravo in campagna ed era un agricoltore. Queste le prime parole messe a verbale dal boss, che davanti al GIP Alfredo Montalto e ai sostituti procuratori Gianluca De Leo e Giovanni Antoci si considera una polide, non avendo una residenza ufficiale da tanto tempo. I magistrati gli chiedono se possegga dei beni. Il boss diventa ironico e dice, li avevo, ma me li avete tolti tutti. Se qualcosa ho, non lo dico, sarebbe da stupidi. Le cronache ci raccontano che, durante gli anni della latitanza, molti beni del capomafia e decine di suoi prestanome sono stati scoperti dagli inquirenti. Ingenti i sequestri. Un miliardo e mezzo era stato tolto all'imprenditore re dell'eolico Vito Nicastri. Un altro un miliardo e mezzo a Carmelo Patti, patron dell'ex Valtur, cui la DIA ha confiscato decine di società, villaggi turistici, appezzamenti di terreno, immobili e disponibilità bancarie. 700 milioni a Giuseppe Grigoli, che gestiva una quarantina di supermercati tra Trapani ed Agrigento. 500 milioni ancora a Rosario Cascio, considerato l'interfaccia economico di Matteo Messina Denaro nel settore dell'edilizia. In totale, la quota riconducibile al mafioso di Castelvetrano ammonta a oltre 4 miliardi. Dai pizzini si è scoperto che ogni anno Messina Denaro appuntava un'entrata fissa di circa 20 mila euro. Per provare a comprendere da dove provenissero, si può forse fare riferimento a una prassi riferita proprio dal boss nel corso dell'interrogatorio. Il meccanismo è lineare. Nel momento in cui avrei deciso che avevo bisogno io, lo facevo sapere. Il finto proprietario del bene lo vendeva e mi mandava i soldi, ma prima se li metteva in banca e poi a poco a poco li prendeva, racconta il boss. Nel frattempo, importanti risultanze investigative fanno ulteriore luce sulle entrature del padrino al di fuori degli ambienti di Cosa Nostra. Dagli ultimi elementi raccolti dagli investigatori è infatti emerso che il teatro dell'ultima fase della latitanza del boss prima del suo approdo a Campobello di Mazzara è stata la Calabria. Messina Denaro avrebbe trovato rifugio tra le città di Lamezia Terme e Cosenza, protetto dall'andrangheta, dove potesse guire affari legati alla droga, al business dell'eolico e alla realizzazione di un villaggio turistico. Dice che Matteo era in Calabria ed è tornato, rivela il boss di Partanna Nicola Accardo ad un altro punciuto, Antonino Triolo, il 3 settembre del 2016. I due mafiosi intercettati dagli inquirenti parlano proprio degli spostamenti di Matteo Messina Denaro. Solo pochi mesi fa si sono aperte le porte del carcere per Antonino Dalì, ex senatore di Forza Italia e sottosegretario all'interno condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, il quale strinse numerosi patti politico mafiosi con Cosa Nostra. Le favorì Messina Denaro e altri esponenti illustri dell'organizzazione. Lo scorso marzo, nell'ordinanza di custodia cautelare per la sorella del boss di Castelvetrano, che curò la latitanza del fratello e agì al suo servizio come messaggera, il GIP di Palermo, Saverio Montalto, aveva invece fatto riferimento ai favori che il boss avrebbe ricevuto prima dell'arresto da parte di talpe delle forze dell'ordine o di tecnici esperti. Lo stesso GIP fa riferimento a canali tutti da investigare. L'impressione è che questi canali siano numerosi e variegati e che le indagini sul network che ha curato, sostenuto e protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro proseguiranno ancora per molto tempo. Iscriviti al nostro canale L'Indipendente per continuare ad ascoltare un'informazione senza padroni. Grazie. Grazie.